Bentornato negli studi di Temporadio al vice sindaco di Montichiari, con noi l'assessore anche Basilio Rodella. Bentornato, buon anno anche. Buon anno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, gli ascoltatori li invitiamo a partecipare, ricordiamo una delle tante coordinate, il numero per mandare sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105. Dunque, cominciamo allora col parlare di cultura, visto che lei si occupa fondamentalmente di questo. viviamo nel paese che ha prodotto, dicono gli esperti, il 75% della cultura mondiale e noi ce ne dimentichiamo regolarmente. Stavo leggendo... Questo è un dato significativo, poi sui dati del 75% o meno c'è da discutere. C'è da discutere, però comunque è indubbio che... Risulta comunque che l'Italia abbia il maggior numero di siti dell'UNESCO, ci sono circa 46-47 i siti dell'UNESCO presenti in Italia, e è la presenza più significativa nel mondo, quindi qualcosa vorrà dire. Assolutamente. Il 75% che tiene conto anche comunque di quelli di origine, non so, Francis Ford Coppola per dire, è ritenuto un artista italiano anche se americano, ecco, è un esempio. Allora, poi sì, ripeto, non so come facciano a... Però, per esempio, sono venuti fuori i dati, per esempio, recentemente dei musei vaticani che sono ottimi, che però sono un quinto o qualcosa del genere del Louvre. Purtroppo in Italia va così. Ma noi vogliamo parlarne però in senso buono, perché parliamo di cultura per quanto riguarda Montichiari. Montichiari è una città che è particolarmente ricca. Tra l'altro è una città che nasce 850 anni fa? Sì, questa è la chicca. Il 23 aprile del 1167 i conti dell'epoca stilarono un documento che dava libertà ad alcune famiglie, ad alcuni homines di Montechiaro di gestire il territorio. E comunemente si fa partire la nascita del comune di Montichiari da questa data. E quest'anno c'è la ricorrenza significativa che appunto il 23 di aprile sono giusto 850 anni in cui fu stilato questo documento. Esatto, spieghiamo. Burgo, il centro, la cittadina esistevano già, chiaro, questo poco ma sicuro, però non avevano un... Nasce l'affrancamento, cioè da sudditi i cittadini di Montichiari cominciano a gestire il territorio improprio, quindi diventano uomini liberi di gestire la terra su cui vivono. Esatto, prima era uno stato invece di feudale, quindi c'era il feudatario e gli altri praticamente e facciamo quello che diceva lui. Esattamente, questo raccontano sommariamente i documenti, sì. Nasce la cosa pubblica praticamente a Montichiari 850 anni fa. Voi cosa farete per celebrare? Sono in atto una serie di iniziative, mi sento di poterne anticipare tre, anche se non ancora formalmente definite, ma la prima che ha avuto come atto formale la richiesta presso l'archivio di Stato di poter documentare il documento di cui stiamo parlando per poterlo fornire a tutte le scuole e a tutti i cittadini che ne volessero una copia e speriamo presto che l'archivio di Stato ci possa rispondere. Stiamo poi lavorando alla realizzazione di un volume che vorremmo presentare giusto il 23 e che presenti le bellezze di Montichiari. Ci stiamo lavorando e dovremmo riuscire nell'impresa di poterlo pubblicare. Terza iniziativa, una mostra che raccolga le decine, potremmo dire centinaia, perché dovremmo arrivare a circa 200 pubblicazioni che si riferiscono a Montichiari. Contestualmente stiamo avviando una ricerca nell'archivio comunale per l'individuazione di quei documenti significativi per la storia della comunità da poter digitalizzare ed esporre al pubblico. Certo, certo. Quindi un bel lavoro proprio sui più fronti. Sì, un lavoro di ricerca che va alla radice della conoscenza della nostra comunità. Per cui qualcosa di molto bello assolutamente. Il collega si avevamo annunciato questa mattina che ci sarebbe stato Renato Baratti, invece è venuto Basilio Rodella. Ha avuto un problema istituzionale. Ha ragione Mario, vuole sapere anche delle multe, non è proprio di sua competenza. Mi estengo nel senso che non ho la competenza necessaria per trattare l'argomento in maniera approfondita. Allora, posso dire io questo, che oggi c'è la prima udienza. Sì, esattamente, il giudice di pace dovrebbe dirimere, speriamo positivamente per i cittadini, la questione. Esatto. Assessore, siete bravi? Date una svolta alla nostra bellissima città, dice Ettore. Direi che tutti i sindaci che si sono succeduti dal dopoguerra ad oggi hanno lasciato la loro impronta. E noi siamo grati a chi ci ha preceduto per avere dotato la nostra comunità di un sistema museale significativo. Il nostro compito è di rendere fruibile questo sistema alla popolazione locale e non. E posso annunciare con un certo orgoglio che le presenze presso i musei di Montichiari sono state nel 2016 pari a 30.000 unità, con un incremento significativo del 10%. Quello che si sta seminando forse si comincia a raccogliere. E questa è una cosa, lanciamo l'appello ai presidi e agli insegnanti, i cosiddetti insegnanti, lei ne sa qualche cosa penso, gli insegnanti eroici, perché tutte le volte che si propone un insegnante, facciamo una gita là, l'insegnante si sente sciogliere i visceri, perché poi dopo c'è lo studente che scompare, che sparisce. Però obiettivamente, lanciamo l'appello, almeno al museo, nei musei locali, portateli, ci sono tanti musei a Montichiari come anche in altri e nessuno ci va mai. Devo dire che i musei di Montichiari sono particolarmente frequentati dalle scolaresche, per cui è una delle fonti più significative di frequentazione del nostro sistema museale. Per cui direi che l'appello va sempre fatto e sempre ben voluto, ma devo dire che per quanto riguarda le realtà Monteclarenzi è una cosa che viene percorsa in maniera significativa, ci sono dei corsi molto apprezzati. Molto bene, lanciamo l'appello comunque ai presidi o dirigenti scolastici, non solo Monteclarenzi, anche altri, guardate che a Montichiari ci sono tanti musei per esempio. Dovete fare più mostre di pittori di spessore, fermato Giulia, forse si riferisce a delle mostre molto belle che avete organizzato recentemente. Ma il 2016 si è caratterizzato per una serie di mostre molto molto significative, penso solo alla Biennale d'Arte Moderna che ha portato a Montichiari artisti di fama nazionale e internazionale, penso alla mostra su Basiletti, un unicum sul territorio nazionale che ha visto Montichiari al centro dell'attenzione, penso alla mostra sul Tiepolo attualmente in essere che chiuderà all'inizio febbraio con disegni della collezione Lecchi, per cui Montichiari si è distinta per mostre di livello veramente molto molto importante. Ma il 2017 non sarà da meno, tanto che dovrebbe aprire l'8 di aprile la seconda mostra su Basiletti, la prima riferita all'anno precedente è stata sul ritratto, questa sarà sul paesaggio e anche questa sarà un unicum. e posso con un certo orgoglio annunciare che abbiamo avuto l'adesione del Museo di Santa Giulia di Brescia, che ci fornirà quattro dipinti molto molto importanti per inquadrare e valutare la qualità di questo pittore dell'Ottocento nel panorama artistico nazionale. Ma non solo, si preannuncia una grande mostra nel settore archeologico, non dimentichiamoci che il gruppo archeologico a Montichiari ha festeggiato i 30 anni di attività e quindi dovrà avere la visibilità necessaria per mostrare i risultati di 30 anni di lavoro e stiamo lavorando molto con Garda Musei per portare a Montichiari una fiera su arte e turismo. Sarà un modo di promuovere il nostro territorio, un territorio allargato, perché Garda Musei ha al suo interno soci come il Comune di Verona, il Comune di Cremona, pressoché tutti i comuni del Lago di Garda a Montichiari e per cui il centro fiera del Garda sarà il contenitore naturale di una fiera che possa portare alla valorizzazione del tessuto paesaggistico, turistico, economico e artistico di questo territorio. Benissimo, fermiamoci un attimo con il vice sindaco di Montichiari, Basilio Rodella, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Montichiari, Basilio Rodella che sta ricevendo anche una marea di messaggi tra l'altro. Dunque ce n'è una che però riguarda la fiera, visto che probabilmente ha parlato di fiera prima, dice Rodella salve, la fiera di Montichiari è stata da Brescia, molte messe da Brescia anche se ora si dice innocente, sversamenti, siamo figli di un dio minore. Questa era un'espressione che l'ascoltatore aveva già mandato, ricordo. Tocca un tasto a me molto caro, nel senso che da sempre sono perché la provincia abbia una visibilità e l'importanza che merita rispetto alla città. Su più tavoli sto dicendo e ho detto che Brescia non può essere capitale di se stessa, ma deve essere capitale di un territorio. La provincia di Brescia conta un milione e centomila abitanti circa e la città non va oltre i duecentomila, deve essere leggermente sotto i duecentomila. Centottantamila credo, più o meno. Esattamente, per cui sia dal punto di vista demografico, economico, paesaggistico, artistico e così via, la provincia ha molto molto da dire. Sulla questione fiera credo che i recenti interventi della provincia di Brescia che ha riconosciuto anche con un intervento economico significativo l'importanza della fiera che è presente a Montichiari, ma non è di Montichiari, ma è di tutta la Lombardia orientale, credo sia un passo importante. Anche la regione con l'assessore Parolini sta facendo arrivare contributi significativi. Credo che i passi che il CDA della centrofiera del Garda sta facendo con le città di Bergamo, Cremona e con Brescia vadano nel senso di una valorizzazione plurima e pluridirezionale del nostro centrofiera, per cui ci saranno interventi significativi che sono in itinere e che non posso ora annunciare. Benissimo. Tra l'altro c'era tale riguardo, Montichiari è meglio di Brescia per tutto, ma la politica ci frena, dice. Non penso che sia riferito probabilmente alla politica monteclarense, ma... al sistema che è. Cioè è un'affermazione che andrebbe forse esplicitata meglio, perché messa così potrebbe dire tante cose e non mi sento di entrare in un argomento che potrebbe sottintendere mille sfaccettature. E sotto i 200.000, allora stavo guardando 196.670. Sono andato a cercarlo intanto. Allora, dunque, 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 vediamo. C'era un, ecco qua, creare un circuito musei con convenzione, con associazione albergatori del Garda, questo bisognerebbe fare. Sì, su questo punto ci stiamo muovendo, stiamo pensando a un biglietto unico con Garda Musei. Cioè, questo significa che un visitatore del Vittoriale potrebbe, potrà, in futuro, staccare un biglietto per poter visitare i musei di Montichiari e viceversa. Questa della biglietteria unica è un progetto che è stato presentato da Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale, nell'ultimo CDA che è stato fatto a Gardone Riviera. Peraltro annuncio che il prossimo CDA di Garda Musei sarà a Montichiari il 30 di gennaio prossimo e per cui lo stiamo perseguendo. Quindi l'invito dell'ascoltatore è più che opportuno e direi che siamo già in fase di potenziale attuazione. Quindi appunto c'è appunto questa, benissimo, questa voglia. Che eventi ci saranno ora che dell'Orena? Che eventi ci saranno? Eventi. Beh, ci sarà con gli 850 anni della nascita del Comune, ci sono eventi, ne ho annunciati tre prima, molto significativi. L'8 di aprile apre la nuova mostra su Basiletti, il 21 di questo mese sarà aperta la mostra sul concorso Treccani con i vincitori. Ricordo che quest'anno il concorso Treccani, il premio Treccani ha avuto una nuova veste con quattro sezioni, la sezione di pittura, scultura, video e fotografia e riservato ai giovani dai 18 ai 35 anni. Per cui è un calendario molto fitto che si annuncia ricco, come è stato ricco o forse più ancora dell'anno scorso. Certo, saluto Veronica che dice anche bravi temporadio, grazie. Ricordiamo che a Castiglione c'è il Museo della Croce Rossa ma esiste anche un detto latino che dice nemmo profeta in patria perché purtroppo tante volte capita che non vai mai in tutta la tua vita a vedere i musei della tua città perché tanto ce l'hai lì, dici sì ci devo andare, ci andrò. Moltissimi i monteclarenzi non conoscono la Pieve di San Pancrazio che è un monumento di livello nazionale. Questo la dice lunga sulle frequentazioni. Infatti. Allora, anni di promesse, rimaniamo con un pugno di mosca e parlo dell'aeroporto, dice Mauro. Non so perché quell'aeroporto io francamente non ci capisco più nulla. Ma l'aeroporto, Mauro, esprime il sentimento che è di molti, che è anche mio, nel senso che abbiamo sul territorio questa grande infrastruttura che potrebbe creare centinaia e centinaia di posti di lavoro che però aggraverebbero il carico di inquinamento ambientale bisogna dire tutte le cose come stanno che purtroppo non è di competenza comunale assolutamente ma neanche provinciale e così via in quanto la proprietà delle concessioni è in capo al sistema aeroportuale Veneto. Per cui siamo un po' le ruote di scorta del sistema aereo del Nord Italia. Sì, del resto il dannunzio era nato anche poi mi pare per un periodo di lavori per sostituire Cattullo. Esattamente, sì. A Vighizzolo c'è la mostra moderna della puzza dipinti su tela. Vabbè, questa è una battuta che fanno a mare ovviamente. Però c'è anche un altro, dicevo, intanto con le discariche abbiamo vinto. Ma direi che il problema delle discariche a Montichiari è un problema ultradecennale che ha molti responsabili. Devo dire che nell'ultimo periodo grazie al lavoro portato avanti dalle Gambiente SS Terra e dalla nostra assessora Maria Chiara Soldini si sono visti passi in avanti. Bisogna riconoscere che anche la Regione ha fatto la sua parte che anche la precedente amministrazione ha fatto la sua per cui la convergenza di molti interventi di passione civile su questo argomento sta dando qualche risultato. Uso un termine non trionfalistico per scaramanzia ma io spero proprio che l'indice di pressione che è uno dei fattori che più di altri hanno contribuito a forse mettere la parola fine all'arrivo di nuove discariche possa avere il successo che tutti sperano. Certo. Teatro, vice sindaco. Occorre istruire i ragazzini insegnare loro a divertirsi. Questo messaggio lascia a molti aspetti. Noi abbiamo molte rappresentazioni teatrali che prevedono la presenza che hanno due momenti il mattino per le scuole e la sera per il pubblico allargato. Per cui questo è un tema che ci sta a cuore e non manchiamo di cogliere tutte le occasioni che il calendario e le offerte di spettacolo ci vengono proposte. Una curiosità. Si riesce a spegnere loro il cellulare quando vanno a teatro? Perché i cellulari li senti anche in chiesa e li senti suonare in momenti meno opportuni. L'invito è sempre fatto. Poi c'è chi lo mette silenzioso e chi lo spegne direttamente. Allora, Carnevale a Montichiari, dicono, altro che Carpenidolo, venite da noi. Io chiedo scusa ai Carpenidolesi, visto che prima avevamo il presidente da Proloco di Carpenidolo. Assessore a Montichiari, c'è poca gente che apprezza la cultura. Lei si impegna ma sembra che ci sia poco seguito. Mi spiace, dice Guido. Ma direi che occorre sempre seminare. Poi il momento della raccolta non si sa quando viene. Esatto. Il compito nostro è quello di seminare. Stiamo seminando, credo. E credo, permettetemi di dire, anche abbastanza bene. Poi Giulio, che dice, vice sindaco della Fiera, deve essere la numero uno a livello non solo regionale ma anche nazionale. Grazie Giulio. Ci stiamo lavorando. Le leggo anche. Assessore, andate avanti così, state lavorando molto grazie a tutti voi. Poi, ancora molto per noi, la politica della città che non vuole che in provincia ci siano azioni culturali di rilievo a cadenza fissa. Rodella, non faccio finta di non sapere, dice Renato. Questa è... Non so se è per città in tendebrecia. È un messaggio criptico che mi piacerebbe poter, che fosse esplicitato meglio per poter rispondere in senso compiuto. Poi, Assessora, Assessora, ma per piacere. No, vabbè, questo è... Non apriamo discussioni di Boldrignane. Lasciamo perdere. Esatto, non apriamo discussioni su questo aspetto. Bravi, bravo Rodella. Poi, non ci sono i soldi per gli altri, invece per... Per i voti risolci, il gesemper. Ah, per i vostri. Ho capito, per i vostri i soldi ci sono sempre. Vabbè, un messaggio polemico che... Ma no, cioè la polemica è sempre ben voluta, cioè soprattutto quando è costruttiva. A proposito di polemica, Vice Sindaco, le vorrei chiedere una cosa, perché so che lei vuole fare un paragone calcistico per lanciare un messaggio, visto che siamo in chiusura, abbiamo pochissimo tempo. Quando una squadra fa gol è merito unicamente della punta. Ma eh... Cioè quello che devia. Non quello che ha fatto tutto il lavoro. per decisare questo argomento qui. Io sono qui adesso a rappresentare la cultura e sembra, ma almeno potrebbe sembrare per chi ci ascolta che il merito sia dall'assessore della cultura e basta. Devo dire invece che nella giunta di Montichiari si respira un clima di grande collaborazione. Abbiamo la fortuna di avere un allenatore regista che è il nostro sindaco che è un uomo di grande cultura che ci permette di lavorare in sinergia con spirito di grande collaborazione. Abbiamo poi due giovani erieti che sono l'assessore Soldini e Morandi che buttano nell'esperienza amministrativa tutto il loro carico di giovanile irruenza che è sempre ben voluto e ben vista. E poi ci sono vecchietti come me e come Baratti e magari persone mature come Tomasoni che offrono un lavoro di puntello di continuità che fanno marciare la squadra in maniera molto significativa. Ci tenevo proprio a dire che è un lavoro di squadra quindi al di là che qui venga l'assessore Rodella o l'assessore Baratti o la Soldini e così via è la punta dell'iceberg che emerge ma sotto c'è un lavoro di grande collaborazione di grande stima reciproca anche per cui è un grazie al nostro sindaco che fa proprio questa che è proprio mi piace molto la figura di regista allenatore che ci fa giocare in maniera molto positiva per la nostra comunità. Benissimo siamo in chiusura ringraziamo il vice sindaco di Montichiari Basilio Rodella grazie a voi grazie a voi grazie a voi